Buongiorno a tutti e grazie per essere tornati a studiare qui con me WordPress. In questo tutorial vedremo come trasferire WordPress da locale a online. Prima di partire, come al solito, vi ricordo che potete aumentare o diminuire la velocità di riproduzione del video agendo dal pulsante Impostazione di YouTube. Un paio di minuti di teoria, che per me è indispensabile affinché i concetti chiave vengano capiti. Quindi comprendere è assolutamente indispensabile per rendere tutto il lavoro semplice e lineare. Quello che faremo non è difficile, però ha delle parti tecniche che comunque devono essere comprese al meglio. Ora, il nostro obiettivo è quello di trasferire il sito che abbiamo fatto in locale, cioè sul nostro computer, su un server web. Per quanto riguarda la scelta dell'OS, quindi del server web, avete un'ampia gamma di possibilità. Io ho scelto i servizi da ruba, ma ovviamente potete scegliere voi qualsiasi altro tipo di host. Dicevo, la procedura è tecnica, ma è assolutamente facile, fidatevi. Innanzitutto, da cosa partiamo? Innanzitutto dobbiamo avere il sito WordPress sviluppato in locale e funzionante al 100%. Un dominio con un database, almeno un database, ma è SQL. Tra l'altro per l'acquisto del dominio farò un video che comunque vi lascerò nella descrizione del video. Dobbiamo essere in possesso di user e password per entrare nel pannello di controllo dell'host. Se non utilizzate Aruba, in genere, utilizzerete un pannello di controllo che si chiama C-Panel e che è comune al 90% degli host. E poi dobbiamo avere il nome del database, il nome dell'utente, la password del database e l'indirizzo host del nostro database. Queste sono le cose che sostanzialmente ci servono per partire. Quali sono i punti chiave da capire e soprattutto come mai non è una procedura così immediata il trasferimento di un sito WordPress online? Non basta trascinare e fare l'upload. Il primo punto riguarda gli indirizzi delle nostre pagine web, quindi le URL. Infatti, quando il sito è in locale, la nostra struttura delle pagine è fatta così. Il protocollo, quindi http2.com, localhost, che è la parte che crea di default WAMP, poi il nome della cartella del sito, noi l'abbiamo chiamato WordPress, e poi il nome della pagina. Quando il sito è online, ovviamente gli indirizzi non possono rimanere tali, quindi dovremo fare in modo da cambiare questo appuntamento da localhost fondamentalmente al nome del dominio che abbiamo acquistato. Quando intendo nome e dominio, intendo www.miosito.itmiosito.com, sarete voi a decidere il nome del dominio del vostro sito. Il secondo punto riguarda i dati di accesso al database. Vi ricordate durante la prima lezione, quando abbiamo installato e settato tutto con WAMP, abbiamo inserito un nome utente, root, la password l'abbiamo lasciata in bianco, e l'indirizzo del sito è localhost, eccetera. Non sarà la stessa cosa quando metteremo il sito online, avremo un nome, uno user, una password, che dovremo cambiare all'interno della configurazione del nostro sito. Quindi, sostanzialmente, qua vedete un riepilogo di quello che faremo. A sinistra abbiamo il nostro sito in locale, con quella determinata URL, quel nome del database, WPDB, vi ricordate che l'abbiamo dato noi, la user root, la password che abbiamo lasciato perdere, e poi l'indirizzo localhost. Nel momento in cui sarà online, le cose cambieranno, quindi la URL cambierà rispetto al dominio che andrete a scegliere, e poi i dati rispetto al database, ma il SQL, saranno quelli forniti dal vostro host, non sarete voi a sceglierli. Sostanzialmente non ci sarà tanto da fare, ci sono sette punti, sette passaggi che seguiremo. Quindi, cominceremo con il comprimere la cartella contenente tutto il nostro sito, esporteremo il database in formato SQL, e SQL, caricheremo il nostro sito compresso nell'area online attraverso lo spazio FTP, importeremo il database che prima abbiamo esportato, e poi andremo a modificare il file wp-config. Questa sarà una parte piuttosto delicata perché andremo a modificare un file che è il cuore della configurazione del nostro sito. Cambieremo il puntamento degli indirizzi da localhost al nostro dominio, attraverso l'utilizzo della tabella wp-option. Infine, installeremo un plugin che si chiama Velvet, il quale ci aiuterà, anzi farà tutto da solo, ovvero andrà a cambiare lui in automatico le URL all'interno del sito. Al punto 6 saremo noi a cambiare manualmente il puntamento della home, ma il punto 7 invece sarà il plugin che si occuperà di cambiare tutti gli indirizzi delle pagine interne. È possibile anche farlo manualmente entrando all'interno del file di testo, dove sono impostate queste configurazioni con un semplice Trova e Sostituisci. Utilizzeremo il plugin per semplicità. Ok, come avevo promesso, la parte di teoria è finita, quindi non ci rimane che iniziare il nostro lavoro. Quindi, il primo punto è andare nella nostra cartella creata da WAMP, quindi a partire dal disco locale, WAMP www. Qui trompiamo la cartella che abbiamo creato in precedenza, all'inizio proprio, che quindi se l'apriamo ci mostra i file del nostro sito. Quindi, dicevo, prendiamo la cartella WordPress e andiamo a comprimerla. Quindi, invia cartella compressa. Aspettiamo che la compressione finisca. Terminata la procedura, prenderemo il nostro sito compresso e lo porteremo nella nostra area online. Quindi, ho già effettuato il login all'area di Aruba. Entro nel pannello di controllo. Ok, una volta entrati nell'area amministrazione del nostro sito, lavoriamo con il file manager. Avete due possibilità. Io vi consiglio questa, cioè direttamente dall'host, perché in genere il caricamento, l'upload, è più veloce. Altrimenti potete scaricare un programma FTP per la gestione del file transfer protocol, come fa il Zilla, e effettuare gli stessi passaggi con quel tipo di programma. Benissimo, allora abbiamo detto. Siamo entrati nella gestione dei nostri file, quindi qua ci sono i file indispensabili per il funzionamento del sito. Andremo a caricare la nostra cartella zippata. Quindi, da questa iconcina qua, carichiamo il file, altrimenti possiamo anche trascinarla. Andiamo a prendere wordpress.zip e la trasciniamo qua dentro. Ovviamente in questo caso, di nuovo, dobbiamo aspettare che il caricamento termini correttamente. Una volta caricato il file, andremo poi a scompattarlo. E voilà, eccolo qua il nostro sito. A questo punto, tasto destro, estrai archivio. Qui. Effettuiamo l'estrazione. Dovrebbe essere molto più veloce. Ed eccoci qua. Allora, prima di andare avanti, apriamo la cartella. In questo caso ci sono tutti i file che ci servono, quindi siamo sicuri di poter continuare con la nostra procedura. Torno al livello superiore e per quanto riguarda questa piccola parte abbiamo terminato. Ritorneremo tra 5 minuti. Terminato lo scompattamento del sito WordPress, Entriamo in localhost, accediamo all'area phpMyAdmin e esportiamo il database. Ovviamente WAMP deve essere attivo e poi, se vi ricordate, scriviamo localhost e accediamo alla voce phpMyAdmin. Autenticazione, root, ok, password, niente, quindi eseguiamo l'accesso. E esportiamo il database. Dobbiamo ricordarci il nome del database creato, no? WPDB. Quindi seleziono questo database, entro all'interno della sua area e semplicemente gli chiedo di esportare tutto quanto il database. Che cosa vuol dire? Che i dati che abbiamo inserito popolando il nostro sito in WordPress, testo, immagini e quant'altro, vengono salvate all'interno di questo file in formato SQL. Rapido, va bene, tanto dobbiamo esportare tutto quanto. E eseguiamo l'esportazione. WAMP ci chiede dove salvarlo, vi consiglio di salvarlo nella cartella WAMP www con il suo nome, quindi wpdb.sql. Salviamo, quindi sappiamo che l'abbiamo messo lì. Adesso dobbiamo rientrare nel pannello di controllo Aruba, nell'area phpMyAdmin di Aruba, quindi online, scegliere il db che vogliamo usare e andare a effettuare alcune modifiche. Quindi rientriamo in Aruba, scegliamo la voce database, messi quel. Anche in questo caso entriamo nell'area phpMyAdmin sostanzialmente. Il vostro host vi avrà dato user e password che andrete a inserire qua dentro. Accediamo all'area, scegliamo il database che vogliamo usare se ne abbiamo più di uno a disposizione. Vedete io ne ho 5 a disposizione, 4 sono già stati usati, me ne rimane uno. Quindi vado a scegliere il quinto database, qua trovo tra l'altro anche il nome del database che sto utilizzando. E a questo punto non dovrò fare altro che importare il database che ho esportato precedentemente da localhost. Quindi scegliamo il file, ecco che ci porta direttamente nella cartella www, è lui, apriamo. Va bene così ed eseguiamo l'operazione. Un minuto di pazienza, importazione eseguita con successo. Ok, quindi il nostro database è stato popolato. Facciamo un piccolo riepilogo. Noi abbiamo il nostro sito completo di tutto caricato online, il nostro database importato, che cos'è che ci manca? Il collegamento tra le due parti, quindi tra questa sezione il database e i file caricati online. Per farlo dobbiamo entrare all'interno della cartella WordPress e cercare un piccolo file di testo, anzi un piccolo file php che si chiama wp-config.php. Visto che è molto importante, vi consiglio di creare una copia di backup di questo file. Per quanto mi riguarda, in genere io vado sempre a rinominarlo. Invece di copy metto backup e poi modifico l'estensione onde evitare problemi. In modo che se qualcosa dovesse andare storto, perché un attimo digitare qualcosa di sbagliato, comunque ho sempre la possibilità di tornare indietro recuperando il file originale. Quindi wp-config, tasto destro, andiamo a modificare il file. Ecco qua. Scorriamo con la rotellina. Qui come vi ho anticipato prima, ci sono dei dati che dobbiamo andare a compilare. Quindi il nome del database, user, password e host. Perfetto. Quindi prendete i dati che vi ha dato il vostro host, nel mio caso ripeto Aruba, e le incollate qua dentro all'interno delle virgolette. Occhio non toglierle. Una volta compilati i dati, salvate. E chiudiamo. Effettuato la modifica del file wp-config, dobbiamo andare a effettuare ancora l'ultima modifica un pochettino tecnica all'interno dell'area phpMyAdmin. Quindi torno nella pagina precedente, quindi laddove precedentemente abbiamo importato il nostro database, e andiamo a cercare la tabella wp-option. Qua ci sono tutte le tabelle che il database ha creato in automatico, e a noi interessa proprio wp-option. Perché ci interessa questa tabella? Perché è qui che andiamo a rintracciare le url di riferimento. In questo caso ci mostra la struttura, quindi come è strutturata per l'appunto la tabella, invece noi vogliamo mostrarla per vedere come è compilata al livello di campi. Quindi clicchiamo mostra, ed ecco qua che ci sono tutti i record da cui è composta la nostra tabella. Vedete che qui, avendola importata dal computer locale, come indirizzo è ancora impostato quello vecchio. Non può funzionare, infatti se noi andiamo a digitare l'url del sito, del nostro dominio non funzionerà. Allora compiliamolo correttamente. Come? Ve lo scrivo qua grande, https2.slash.slash.www.nomedominio, che per me è francesca.g.it. Non basta ancora perché il nostro sito è all'interno della cartella WordPress. Il protocollo anche lì dipende se avete installato o meno il certificato di sicurezza e se sta proprio per sicurezza. Quindi vedrete voi se mettere http o https. copiamo e andiamo a incollare uno, quindi il siteurl e poi la home. Perché dobbiamo farlo da phpMyAdmin? Perché altrimenti non abbiamo neanche l'accesso al back-end di WordPress, proprio perché la url punta sempre al locale. Perfetto. Fatto questo, controlliamo l'ultima volta che sia tutto corretto, quantomeno dovremo poter entrare nell'home page del nostro sito. Vediamo subito. Digitiamo l'indirizzo, premiamo invio, ed ecco qua che il nostro sito è stato importato correttamente dal locale online. È sufficiente fare questo? No, perché l'home page funziona avendo cambiato l'indirizzo da phpMyAdmin, ma ci sono tutta un'altra serie di pagine che noi non abbiamo toccato a livello di url. Infatti, se noi appoggiamo il cursore su un pulsante qualsiasi, in basso troveremo l'indicazione dell'url. Punta ancora localhost. E assolutamente non va bene. Quindi, per ovviare a questo problema, entriamo nell'area amministrazione. Per entrare nell'area amministrazione, digitiamo l'url del sito, slash vp-admin, invio. Ora mi chiede di usare password. In questo caso non cambiano rispetto a quelle che abbiamo messo in locale, proprio perché comunque vengono registrate in WordPress. Quindi effettuiamo il login. Visto che la password non cambia, e visto che questa è una password veramente molto debole, una volta portato il sito online, mi raccomando, cambiatela e mettete una password forte. Ok, siamo entrati all'interno del nostro sito in WordPress. Andiamo nella voce plugin e aggiungiamole uno nuovo. Lo facciamo direttamente online. Il plugin si chiama Velvet. Belluto. Installiamolo. Attiviamolo, cliccando di nuovo sulla voce. Una volta attivato il plugin, all'interno degli strumenti trovate una nuova voce, Update URLs, quindi aggiorna gli indirizzi delle pagine. Qua vi mette due voci di esempio per farvi capire che cosa dovete fare. Semplicemente un trova, quindi quello che metto qua e quello che vuoi andare a trovare, per sostituirlo con quello che andremo a inserire sotto. Quindi cosa dovrà trovare? http2.com slash localhost slash WordPress che non è altro che appunto il nostro indirizzo nel nostro sito in locale. Quindi se volete evitare di commettere errori nella compilazione delle URL, potete navigare al sito, copiare l'indirizzo e incollarlo qua. Perfetto. Stessa cosa per l'indirizzo online. Ecco qua. Seleziono, copio e incollo. Quindi trova localhost sostanzialmente sostituisci con francescag.it andiamo a spuntare tutto tranne l'ultima voce e chiediamogli di aggiornare i link. Qua ci dirà quanti collegamenti ha trovato e quante modifiche avrà fatto. Ora, a questo punto, prima di testare il sito, io vi consiglio di cancellare la cache, cronologia e tutto quanto, perché sono le cose che bloccano degli aggiornamenti, non sempre ma capita, e quindi vi può sembrare che il procedimento non abbia funzionato quando è sostanzialmente una questione di cache. Quindi, CTRL-H per chi usa Chrome, cancella date di navigazione, fate che cancellare tutto, io in questo caso cancello l'ultima ora, vabbè. Poi tornate al vostro sito online, aggiornate premendo Shift più click sul tasto aggiorno in modo da ricancellare ulteriormente la cache del vostro sito e proviamo. Home, chi siamo? Vedete in basso che l'indirizzo effettivamente è stato cambiato. Gruppi di lettura, lo vediamo già dalla urla che funziona, progetti, blog e contatti. Torniamo alla Home, insomma conviene sempre controllare comunque tutto in modo da essere sicuri che tutto funzioni per il meglio. Ok, quindi direi che il nostro obiettivo è concluso, è terminato e ha funzionato al meglio. Ora, se avete qualche dubbio, non esitate a scrivermelo sotto nei commenti, se il video vi è stato utile, fatemelo capire con un like e aiuta sempre il canale. Ci vediamo al prossimo tutorial. Grazie e a presto.